Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento. Oggi intervista speciale con Diego Fusaro, anziché parlare soltanto di cultura e filosofia. Oggi parleremo in maniera precisa di quello che sta accadendo nel nostro Paese, in particolare i rapporti di forza che cambiano, l'arrivo di Mario Draghi che ieri è stato osannato in Senato come se fosse un nuovo Salvatore. Il suo discorso però è stato pieno di limiti, di contraddizioni, proveremo ad analizzarle in compagnia di Diego Fusaro. Ciao Diego, bentornato. Grazie, grazie, un caro saluto da Diego Fusaro. Diego, hai ascoltato il discorso di Draghi, ha spiegato che questo governo sarà assolutamente europeista e atlantista e con Salvini che è rimasto un po' lì e ha cercato di smaccarsi, però ha dettato una linea chiara, di fatto costringendo le ex forze populiste e sovraniste Lega e Movimento 5 Stelle ad accodarsi. Sì, è proprio così. Non soltanto l'ho ascoltato in diretta, ma l'ho anche poi letto per cogliere alcune sfumature che magari potevano essermi sfuggite durante l'ascolto. Alcuni passaggi credo siano fondamentali per comprendere quello che sta avvenendo nel nostro paese e quello che avverrà ancora più nel nostro paese. Non dimentichiamoci anzitutto che Mario Draghi non giunge per accidents catapultato dal cielo, ma giunge in un preciso momento storico, nel bel mezzo di un'emergenza pandemica che sta implicando una ristrutturazione delle nostre vite, delle nostre libertà, dei nostri diritti e che ora sembra trovare nell'avvento di Mario Draghi un momento dirimente e decisivo. Nel suo discorso Mario Draghi ha anzitutto evitato accuratamente ogni possibile riferimento alla Carta Costituzionale Italiana. Questo è un primo aspetto che non deve sfuggire. Se ha giurato fedeltà, ha giurato fedeltà in quel suo discorso all'Unione Europea e all'Euro. Tre passaggi a tal riguardo meritano di essere sottolineati. In primis ha sottolineato espressamente che noi siamo legati a filo doppio all'Unione Europea e che quello è il nostro ordine valoriale di riferimento. Non la Costituzione Italiana, ripeto, bensì Bruxelles, l'Unione Europea, i trattati europei. Punto secondo ha specificato e sottolineato quello che è un caposaldo della propria concezione del mondo, ossia l'irreversibilità dell'Euro trasfigurato in una sorta di a priori storico, in una sorta di dato naturale eterno, irreversibile come gli eventi di natura. Noi sappiamo, peraltro, che a livello di ontologia primaria vi è una distinzione netta fra le res nature e le res geste. Nell'ambito della natura vi è l'irreversibile. Dopo un terremoto non si può tornare a prima, naturalmente. Dopo il terremoto di Lisbona non si torna a ciò che c'era prima. Le leggi della storia, invece, di fatto, le cose della storia, le questioni storiche, non hanno questo carattere inemendabile, necessitante e meccanico, nel bene e nel male. Dopo la stagione dei diritti conquistati dalle classi lavoratrici, si può dolorosamente tornare indietro e quindi non sono irreversibili quei diritti. Dopo le conquiste della rivoluzione francese si può, in parte, tornare indietro di quello che accade con il congresso di Vienna. Dopo l'euro, verosimilmente, si potrà andare oltre o tornare a qualcosa che c'era prima. Quindi, prima notazione di ontologia basica. L'irreversibilità non vale nell'ambito delle leggi della storia e chi usa la categoria di irreversibilità, come dire, viola la legge di Hume, quella che ci dice che non possiamo derivare il dover essere dall'essere. E quindi si confonde, in qualche modo, la prescrizione con la descrizione, quasi attribuendo alla realtà stessa il nostro piano di desideri, che in questo caso coincidono, ovviamente, con la trasformazione dell'euro in un destino naturale eterno. Terzo punto importante e connesso ai due primieramente evidenziati è la questione delle sovranità da cedere. Gli Stati membri debbono cedere sovranità per recuperarle come sovranità condivise. Questo è il vecchio teorema di Mario Draghi, questo è il vecchio teorema su cui si fonda l'inganno prospettico dell'Unione Europea, così come ho provato a tratteggiarlo nel mio libro Il nichilismo dell'Unione Europea. Si promette ai popoli di Europa di rinunziare alle loro sovranità nazionali per riconquistarle poi come sovranità condivisa dei popoli europei. In realtà si compie il primo passaggio, quello delle cessioni di sovranità, senza mai che si attui il secondo, quello del recupero della sovranità sovranità intesa come popolo unificato europeo. E infatti puntualmente la sovranità viene ceduta dai popoli europei a beneficio di enti terzi che coincidono con la Banca Centrale Europea nella fattispecie e che quindi di fatto opera desovranizzando gli Stati nazionali e per così dire favorendo quella che nel mio libro Il nichilismo dell'Unione Europea chiamava la transizione dalla centralità decisionale dei parlamenti democratici nazionali alla nuova centralità decisionale di enti post nazionali e post democratici come i consigli di amministrazione o la Banca Centrale Europea. Quindi questi tre punti evocati da Mario Draghi non lasciano adito ad alcun dubbio rispetto a quello che sarà e che già in parte è l'andamento di questo governo che pare più simile ogni giorno di più in realtà a un commissariamento dell'Italia ad opera di Bruxelles. Si consideri per incidence che partimmo nel 2018 con delle elezioni che nel bene o nel male diedero ragione a quelle forze che pur variamente in maniera lontana e al di là di ogni isomorfismo propugnavano una sorta di principio di sovranità e quindi l'opposto rispetto alla dottrina delle cessioni di sovranità a Bruxelles. Il Movimento 5 Stelle e la Lega che poi andarono a governare secondo le insegne giallo-verdi avevano al di là delle differenze nel principio di sovranità nazionale la ragione del loro successo elettorale vorrei dire. Ecco ora senza che si sia più transitati in alcun modo dalle elezioni anche perché come ha ripetuto il Presidente della Repubblica Mattarella essendovi il virus è pericoloso votare e quindi anche questa formulazione non deve passare inosservata. Per contenere la curva epidemiologica si sospendono tante le abbiamo già sottolineate in più occasioni procedure democratiche tra cui la tripartizione dei poteri tra cui anche i principi costituzionali o alcuni principi costituzionali e adesso scopriamo che anche le elezioni possono essere interrotte causa virus. Ecco e quindi ci troviamo ora 2021 ad avere un governo senza che mai si sia passati dalle urne che è non solo diverso, di più opposto rispetto agli intendimenti del 2018 quando gli italiani a torto ha ragione votarono forze Lega e 5 Stelle che ripeto in comune avevano non dico esageratamente l'anti-europeismo anche se in alcuni casi vi era anche quella componente ma sicuramente una sorta di volontà di trattenere la sovranità anziché cederla a Bruxelles. Questo è un aspetto interessante. Altri punti del passaggio di Draghi mi paiono molto importanti e degni di sottolineatura. Ad esempio la stoccata contro la Russia di Putin che deve essere eletta insieme con l'apertura l'ennesima a Washington e alla Nato Draghi ha detto che l'Italia resta saldamente nell'asse atlantista washingtoniano sotto l'ombrello della Nato avrebbe detto a suo tempo Berlinguer l'ha ribadito non che ne avessimo particolari dubbi ma insomma ha chiarito una cosa che fa parte della politica italiana e dei rapporti di forza globali che vedono l'Europa e anche l'Italia quindi in posizione di colonia subalterna rispetto a Washington del resto l'Europa che finge talvolta di potersi distinguere separare, autonomizzare grazie alla sua unità dimentica o finge di dimenticare che con le sue centinaia di basi militari statunitensi sul proprio territorio è per così dire priva della sovranità militare che Machiavelli-Docet è caposaldo di ogni sovranità insieme naturalmente alla sovranità monetaria che in questo caso è requisita da Bruxelles la Russia di Putin secondo Draghi è colpevole di violazione dei diritti individuali e delle libertà è un topos narrativo che ritorna variamente modulato dagli architetti del discorso unico del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto è una sorta di punto fermo del nuovo ordine mentale di completamento del nuovo ordine mondiale la Russia di Putin viola i diritti umani le libertà, le democrazie, il codice liberale la Russia di Putin è in mano a uno zar rosso-bruno dalle tendenze xenofobe e omofobe e quindi non merita, si dice, che inimicizia peccato poi che Draghi nel suo discorso non abbia fatto nemmeno un cenno tangenziale ai diritti e alle libertà violati ormai da un anno in regime pandemico sanitario penso ad esempio alla libertà di assemblea articolo 17 della Costituzione penso alla libertà di spostamento articolo 16 della Costituzione al principio fondamentale del lavoro ribadito nel primo e nel quarto articolo della Costituzione di tutto ciò non verrà traccia nel discorso di Mario Draghi purtroppo e ciò a sottolineare quella che è di fatto un'ulteriore prova a sostegno del posizionamento saldamente euro-atlantista di questo governo e va sottolineato questo aspetto perché come ben sapete siamo al cospetto di una intensificazione delle ostilità degli Stati Uniti d'America verso i cosiddetti stati canaglia o genericamente verso i governi che non si pieghino e non si genuflettano rispetto alla monarchia del dollaro Joe Biden ha intensificato a dismisura una tendenza che Trump aveva in qualche modo lasciato latente e non sviluppata pieno l'aggressività verso i cosiddetti stati non allineati Biden ha già posizionato truppe in Norvegia in funzione antiputiniana ha già lanciato i suoi diktat alla Cina e ha peraltro anche congelato il rientro delle truppe atlantiste dalla Germania che era stato disposto invece da Trump quindi anche sul piano geopolitico mi sembra che il governo Draghi confermi le peggiori tendenze in atto vi sono stati alcuni lapsus anche nel suo discorso come qualcuno ha giustamente rilevato e questi lapsus ci aiutano anche a comprendere molte cose che talvolta non passano passano sotto silenzio due lapsus freudianamente intesi intanto due milioni di persone ricoverate ecco anche Conte mi pare una volta avesse sbagliato grossolanamente sul numero dei ricoveri dei malati se ricordo bene ecco è un errore grave ovviamente che ovviamente sempre va dalla parte del worst case scenario non ha detto ci sono 20 persone ricoverate che sarebbe stato un errore di segno opposto detto ci sono due milioni di persone ricoverate quindi una auxesis direbbero i greci un aumento parossistico che non per caso rientra sempre nella narrazione dominante ma poi c'è stato anche un altro lapsus interessante e credo da leggersi insieme a quello di qualche giorno addietro quando Draghi non si fermò dinanzi al tricolore vi ricorderete nel giorno dell'insediamento l'altro lapsus sta nelle parole di Draghi che cito alla lettera siamo onorati di servire il vostro paese ora la domanda che sorge spontanea e non è solo un gioco di parole ma a nome di chi sta parlando Mario Draghi se è onorato di servire il nostro paese e non lo riconosce come suo il vostro paese l'ha chiamato evidentemente c'è un lapsus che può leggersi fecondamente di concerto con l'altro lapsus che abbiamo detto ma poi anche con il gesto mancato di qualche giorno addietro del mancato riconoscimento degli onori al tricolore ecco questa è la tendenza generale che vedo chi parla di successo del governo Draghi di speranze legate al governo Draghi di possibilità di redimere la patria offesa è o profondamente ingenuo o altrettanto profondamente in cattiva fede con Draghi si compie un progetto iniziato parecchi anni or sono direi già nel lontano 1992 a bordo del panfilo Britannia sul quale peraltro fu presente anche Mario Draghi benché non fosse poi salpato con il panfilo ci dicono alcune fonti ad ogni modo era presente anche egli e su quel panfilo a largo di Ostia si decisero le sorti dell'Italia nel momento della ristrutturazione post 1989 degli assetti di forza a beneficio del blocco liberale che si stava formando e che avrebbe fatto delle parole d'ordine liberalizzazione, privatizzazione taglio alla spesa pubblica il proprio mantra ossessivo ribadito urbi e torbi e tradotto puntualmente in programmi politici poco importa se con tintura di fucsia delle sinistre o bluet delle destre il liberismo da quel momento 1992 divenne verbo unificato unica ragione del mondo o nuova ragione del mondo come l'hanno ben definito in Francia Dardot e Laval due studiosi importanti che parlano del liberismo come nouvelle raison du monde come nuova ragione del mondo e ora siamo giunti al redderazionem direi siamo giunti al redderazionem Draghi potrà applicare infine quel programma che si era avviato nel 92 e che ora troverà la propria estrema attuazione non si dimentichi mai che Mario Draghi non è semplicemente un esperto un tecnico come talvolta ingenuamente o anche in questo caso in cattiva fede si dice Mario Draghi è un uomo di ortodossa fede liberista è un uomo che risponde pienamente alla visione del mondo che va variamente sotto il nome di liberismo capitalismo, mercatismo e così via è un uomo che proviene dalla Goldman Sachs è un uomo che era a bordo del panfilo Britannia è un uomo che è stato in un posto niente affatto secondario di rilievo nella Banca Centrale Europea è un uomo che ha segnalato la propria traiettoria di pensiero e di azione politico-economica nella lettera del 2011 che recava la sua firma e che spiegava nero su bianco che urgevano per l'Italia riforme che poi puntualmente erano contro riforme se viste dal punto di vista di chi lavora e dei ceti medi taglia la spesa pubblica privatizzazione, aggiustamenti macroeconomici in senso puntualmente liberista e così via ecco quindi questa è la tendenza io come dico spesso se dovessi dare un'immagine icastica del governo Draghi suggerirei di immaginare un'aquila che volteggia rapida in cielo con il volto di Mario Draghi sospinta dalle due ali destra e sinistra destra bluette e sinistra fucsia che lo sorreggono e che al momento opportuno favoriranno il suo volo verso terra per dilaniare il già suppliziato corpo dell'Italia e quindi per portarne lo scalpo a Bruxelles modalità grecia io sottoscrivo in sintesi se mi si chiedesse la domanda leniniana vastun che fare le parole di Varoufakis già ministro dell'economia in Grecia mi paiono massimamente sottoscrivibili ogni vero patriota democratico deve opporsi a Mario Draghi e al suo governo non saprei formularla altrimenti ogni vero democratico patriota deve opporsi al governo di Mario Draghi perché quel governo sarà la fine per le classi lavoratrici la fine per le classi lavoratrici non per caso si punta già come avrete notato sulla svolta green sul digitale su tutti quei capisaldi che si presentano sempre come affascinanti come seducenti dal punto di vista anche linguistico la transizione ecologica la digitalizzazione del paese sono nomi orwelliani che veicolano contenuti pessimi incartati però all'interno di involucri seducenti e persuasivi tali da dover essere accettati a scatola chiusa in realtà digitalizzazione vorrà dire né più né meno che potenziamento del mondo delle solitudini telematiche con annessa scomparsa del danaro contante a beneficio dei colossi finanziari e bancari al quale lo stesso Draghi ha prestato servizio svolta green e significherà ulteriore profitto per quanto ritinteggiato di verde per i colossi del capitale che anzi si laveranno la coscienza facendo finta che in realtà il vero modo per difendere il pianeta dall'inquinamento è superare il modello capitalistico di sviluppo e quindi ci vuole più Marx e meno Greta Thunberg ecco se si vuole curare la questione dell'ambiente Diego tanta gente si domanda come sia stato possibile assistere ad un cambiamento così radicale così rapido da parte di quelle forze che avevano criticato prima Monti e poi tutti i governi voluti da Napolitano e poi anche da Sergio Mattarella e avevano criticato in maniera feroce queste operazioni parlo naturalmente di Grillo e Salvini in particolare hanno raccolto delle quote di consenso molto importanti proprio sulla scia di una critica durissima nei confronti di questo sistema che tu hai appena dipinto con grande precisione però i rivoluzionari del giorno prima sono poi diventati i responsabili e i moderati del giorno dopo persino uomini come Bagnai che hanno fatto carriera prevalentemente cavalcando la lotta all'euro è famoso un suo libro il tramonto dell'euro dove per giunta si prendono in giro non soltanto quelli che credono in Mario Draghi ma anche quelli che dicono che l'Europa si può cambiare dall'interno e adesso ha cambiato completamente impostazione qual è perché succede questo tu ti sei dato una spiegazione rispetto a quello che accade che è drammatico al tempo stesso grottesco sì io come sai sono un lettore e un estimatore di Alberto Bagnai ho letto i suoi studi che rimangono pietremiliari per la critica non solo economica di quel costrutto di quell'irco cervo che è l'Unione Europea di quel moloch terrifico che è l'Unione Europea è nel vero Bagnai quando dice nel suo libro il tramonto dell'euro che l'Unione Europea è irriformabile io nel mio libro il nichilismo dell'Unione Europea uso un'immagine automobilistica dovete immaginare l'Unione Europea come un veicolo che corre rapidamente nel suo tragitto ma ha lo sterzo bloccato richiama tra l'altro l'immagine anche la famosa immagine di Draghi delle riforme col pilota automatico peraltro che forse alcuni ricorderanno bene sicché quale che sia il pilota alla guida di destra di centro o di sinistra se lo sterzo è bloccato è chiaro che dovrà necessariamente procedere sul percorso prestabilito che è peraltro un percorso che conduce chiunque lo stia attraversando nell'abisso chiamato Grecia nella sciagurata sorte del popolo greco sicché l'unica cosa intelligente che possa fare un pilota stante il fatto che lo sterzo è bloccato qual è è dicevo io nel mio libro il nichilismo dell'unione europea balzare fuori dall'auto prima che essa precipiti nell'abisso trascinando con sé i propri compagni di viaggio ossia uscire dall'unione europea uscire dall'euro il mio maestro Costanzo Previo usava un'immagine forse ancora più efficace quella del rinoceronte quando il rinoceronte liberista targato Bruxelles prende la carica è inutile cercare di spiegargli che deve procedere più cautamente che non deve ferire le persone la sola cosa saggia da fare pena l'essere travolti in modalità grece è quella di spostarsi dalla traiettoria del rinoceronte cioè nel caso specifico uscire dall'euro e dall'unione europea io credo che larga parte della popolazione l'avesse ampiamente compreso grazie anche all'opera di divulgazione fatta da da Bagnai da Borghi da Paragone da Rinaldi da Brancaccio da tantissimi da Becchi adesso non sto a nominarli tutti un pantheon di intellettuali studiosi giornalisti che avevano coraggiosamente sostenuto l'esigenza di uscire dall'euro per difendere la democrazia che si fonda sulla sovranità ecco bisognerebbe ricordare a Mario Draghi che curiosamente tende a liquidare la sovranità come un concetto regressivo bisognerebbe ricordargli l'ovvio cioè il fatto che la sovranità è la base della democrazia di uno Stato se uno Stato come dice la Costituzione italiana è democratico nella misura in cui vi è la sovranità popolare nello Stato è altresì vero che può essergli la sovranità popolare nello Stato ove lo Stato sia sovrano a sua volta quindi rimuovere la sovranità dello Stato è il punto saldo che gli architetti del globalismo liberista utilizzano per rimuovere la sovranità popolare nello Stato e quindi per imporre le riforme col pilota automatico le scelte dei mercati scalpitanti e le volontà dei banchieri senza anima naturalmente Beppe Grillo e Salvini li usiamo come maschere di carattere di questa tragedia o commedia a seconda dei punti di vista avevano largamente puntato su questa narrativa di difesa della sovranità e del popolo quella che va sotto il nome di sovranismo e populismo concetti coniati ad hoc dai monopolisti della parola per denigrare presentando il negativo due concetti che invece sono fondamentali sovranità e popolo presentati come sovranismo e populismo diventano immediatamente negativi qui gioca la parte opposta rispetto a quella che il lessico ruelliano usa quando ad esempio celebra la buona scuola a quella che poi è la distruzione liberista della scuola qui invece si squalifica come sovranismo il principio stesso di sovranità nazionale come base della democrazia e si squalifica come populismo il popolo cioè l'idea che una comunità umana possa autodeterminarsi e non essere sottoposta alle decisioni dei mercati sovrani dei ceti arrembanti della globalizzazione e così via ecco Grillo e Salvini hanno mutato repentinamente prospettiva in realtà era nell'aria già da tempo perché ricordo ancora quando nell'autunno del 2019 Matteo Salvini in un'intervista sul foglio disse dinanzi all'intervistatore che gli domandava in maniera circostanziata di Mario Draghi Draghi why not quindi non escludeva già allora una possibile apertura a quello che non molto tempo prima era considerato da Salvini stesso come uno dei principali nemici tutti ricordano quello che disse in maniera anche con toni molto accesi Salvini contro Mario Draghi resta agli atti della storia e adesso curiosamente vorrei dire che non si è convertito Mario Draghi che rimane tale e quale a com'era si sono convertiti coloro che prima lo criticavano aspramente e adesso con atteggiamento di segno opposto lo celebrano e lo esaltano Salvini e Grillo in primis Salvini adesso sembra aperto a Mario Draghi proprio come Grillo che sulla propria pagina Twitter pubblicava una riproduzione di Mario Draghi moltiplicato all'infinito con la scritta environment whatever it takes sviluppo progresso qualunque cosa ciò comporti del resto come dire è chiara mi pare la metamorfosi di queste forze politiche che erano partite per opporsi a Bruxelles e adesso si genuflettono totalmente rispetto a Bruxelles e alle sue ragioni erano partite per osteggiare Draghi e le sue classi di riferimento e ora col cappello in mano si inginocchiano dicendo che sperano in loro sperano in loro e quindi credo che ancora una volta ci sia stata una riorganizzazione per i 5 Stelle ho già da tempo parlato di decaffeinamento i 5 Stelle si sono decaffeinati fino a diventare ciò contro cui combattevano e quindi dal decaffeinamento all'evaporazione che si sta verificando in questi giorni in forma compiuta come sapete con molti senatori che abbandonano che hanno osato votare in antitesi con le imposizioni di Rousseau della mistica piattaforma Rousseau e della democrazia della rete per quel che riguarda la Lega si è prontamente riallineata al liberismo delle destre bluette e quindi a forme di berlusconismo taccerismo e così via con anche in questo caso alcuni che onestamente si sono si sono ritirati da questo da questa metamorfosi penso a Vincenzo Sofo che sarà con noi probabilmente più tardi ecco abbiamo abbiamo un dialogo costante con Sofo che è una persona molto seria un ragazzo molto brillante che ha preso una posizione coerente prego ecco Vincenzo Sofo è una persona che io conosco bene una persona onesta di cultura e che quindi giustamente ben conoscendolo io non mi stupisco che con coerenza si chiami fuori da questo indecoroso teatro che si è prodotto con l'appoggio a Mario Draghi ecco questo mi lascia ben sperare perché forse vi sono ancora molte personalità oneste non allineate che ancora credano in qualcosa che non sia semplicemente l'ordine dominante si dice spesso che il populismo in fondo è una perdita di fiducia del popolo nelle istituzioni e quindi una forma di ingenua e fanciullesca protesta a priorica verso le istituzioni probabilmente c'è anche del vero però se guardiamo la questione dall'altra parte cioè dalla parte delle istituzioni non possiamo non rilevare a dire il vero che anche le istituzioni sembrano ormai sideralmente distanti dalle istanze nazionali popolari addirittura operano e decidono quasi come se il popolo che poi le ha elette nominate o approvate non esistesse o fosse di impedimento da cui una curiosa funzione degli intellettuali che ritengo essere una funzione nuova si badi degli intellettuali oggi larga parte degli intellettuali italiani da Roberto Saviano a Fabio a Fabio in fondo non fanno altro che impiegare le loro energie nel tentare di spiegare agli italiani al popolo la perfetta razionalità di ciò che lo fa quotidianamente soffrire e quindi se il popolo osa dubitare dell'Unione Europea loro diranno che ci vuole più Europa perché è la soluzione se i popoli diranno che l'immigrazione i flussi migratori incontrollati non generano sviluppo e progresso né per i migranti né per gli autottoni ma creano ancora più miseria per tutti si dirà al popolo che invece l'immigrazione di masse è un'imperdibile occasione di confronto multiculturale e così via se si dirà che è bisogno di avere più sovranità nazionale per contenere la auri sacra fames della finanza dei suoi ceti a Polidi si dirà che invece la sovranità nazionale è foriera di guerre e di conflitti modalità novecento cosa che peraltro è vera a patto che si dica tutta la verità ossia il fatto che la sovranità nazionale può certamente portare ai conflitti novecenteschi cruenti e veramente ferati ma è anche la base dell'esistenza stessa delle democrazie e degli stati sociali perché la democrazia e il socialismo presuppongono appunto uno stato sovrano che possa intervenire nell'economia facendo valere la sovranità popolare ecco e facendo valere l'intervento di una forza che stia sopra l'economia e i suoi meccanismi per questo il segreto sta nell'abbinare la sovranità dello stato alla sovranità popolare questa è la base della democrazia sovranità dello stato e sovranità popolare la democrazia è una sovranità dello stato al cui interno è sovrano il popolo direi che questa è la formulazione togliere la sovranità dello stato è la prima base per rimuovere anche la sovranità popolare nello stato e questa è l'unione europea descritta in una icastica impressionistica frase Diego visto che sono passati dieci anni dall'arrivo di Monti e obiettivamente tutti quelli che hanno combattuto e combattono per il cambiamento hanno collezionato una serie di sconfitte forse sarebbe il caso di pensare anche qual è l'errore per non ripeterlo in futuro è complottista immaginare che il grande sistema mediatico che poi è nelle mani di quei finanzieri apoliti che tu hai ben tratteggiato prima riesca a costruire contemporaneamente il governo e i suoi oppositori cioè il sistema mediatico perpetua questa classe dominante controllando gli opposti sì è chiaro che l'ordine dominante non si basa soltanto sul dominio fine a se stesso l'ordine dominante mira anche a produrre una sorta di teatralità del potere in cui oltre alla corte di sua maestà ci sono giullari oppositori finti che giocano ruolo per sua maestà e forme di come dire di opposizione che in realtà per vie diverse ripropone il medesimo se vuoi ti faccio alcuni esempi anche recenti ad esempio il movimento delle cosiddette sardine lo leggerei esattamente in questa chiave come un movimento fintamente antagonista rispetto all'ordine del potere ma che in realtà a ben vedere lotta contro tutto ciò che al potere possa opporsi e quindi finisce per le leggi della dialettica per riconfermarlo contro cosa lottano anzi contro cosa lottavano le sardine contro il populismo cioè contro l'idea del popolo sovrano contro il sovranismo cioè contro l'idea della sovranità nazionale come base della democrazia e quindi anche se nascoste dietro un roboante ordine del discorso che le celebrava come forze giovani appassionate democratiche finivano per ribadire per negazione per negazione degli opposti l'ordine dominante pensa anche a un'altra figura che io leggerei in questa chiave generale è la figura delle sinistre odierme che il potere sia di destra nel senso della conservazione dell'esistente così com'è è una questione nota direi storicamente se avessi dovuto dire indicare la differenza tra destra e sinistra avrei detto che la destra voleva conservare l'ordine dei rapporti di forza così com'era la sinistra voleva stravolgerli in vista di un nuovo e di un meglio avvenire ora questa differenza non esiste più da che destra e sinistra sono ugualmente per così dire interne alla logica del rapporto dominante anzi si contendono di fatto il posto per andare al governo ad attuare le riforme volute da Bruxelles o da Washington però ecco il gioco della sinistra è di fare la parte per così dire anarchica rispetto a un potere che diceva bene Pasolini tende a essere esso stesso anarchico il capitalismo disciplinare borghese ha cessato grossomodo di esistere dal 68 e dagli anni seguenti il capitalismo è divenuto palesemente anarchico consumista liberal libertario un potere appunto che trova nella figura oggi in auge dei mercati deregolamentati della deregulation il proprio riferimento a destra la destra vuole la deregulation dei mercati meno stato meno leggi di controllo dei mercati la sinistra che se davvero combattesse contro l'ordine dominante dovrebbe chiedere invece più mercato più leggi più ordine più controllo meno anarchico movimento della bestia selvatica del mercato come la chiamava Hegel invece punta anch'essa sull'anarchismo anche se per così dire alla deregulation dei mercati della destra contrappone la deregulation antropologica della sinistra che però è complementare e quindi è un'opposizione che in realtà riconferma sempre da capo l'ordine dominante per intenderci a giudizio di chi vi sta parlando anche la macchia dell'atlantismo come l'ho varie volte definita è un buon segnalatore per dirci se si è contro l'ordine dominante oppure no se vogliamo essere come mi pare si debba essere oggi a favore della patria e della democrazia occorre rivendicare la sovranità dello Stato come base della sovranità popolare quindi della democrazia ma per farlo bisogna richiedere anzitutto due sovranità una per dirla con Machiavelli è la sovranità della moneta e quindi bisogna recuperare la sovranità in maniera inopportuna ceduta a Bruxelles due bisogna recuperare la sovranità delle armi e quindi bisogna recuperare la sovranità ceduta a Washington non può esservi sovranità in assenza delle milizie e della moneta diceva già Machiavelli quindi io credo che le due figure debbano procedere di conserva sovranità monetaria e sovranità e sovranità e sovranità militare geopolitica abbiamo in campo moltissime forze che ne richiamano una a discapito dell'altra e a mio giudizio bisognerebbe invece convergere o provare a stabilire una connessione per recuperare entrambe le sovranità perché lottare per la sovranità geopolitica è fondamentale ci sono forze di estrema sinistra che lo fanno e bene fanno a farlo però poi magari non combattono a favore della sovranità monetaria e quindi sono monche da questo punto di vista altre invece combattono per la sovranità monetaria ma non per quella militare geopolitica e quindi sono anch'esse monche bisogna a mio giudizio riprogrammare la visione filosofico-politica delle cose ecco è quello che manca in questa fase è quello che manca è proprio una visione di prospettiva che contrapponga all'ordine di Bruxelles un'Europa di stati sovrani nazionali solidali e sotto il nome di quello che io chiamo gramscianamente l'internazionalismo che prevede che vi siano le nazioni ma che siano in relazione pacifica cioè il vero opposto del globalismo non è il nazionalismo è l'internazionalismo cioè un rapporto tra stati nazionali che esistono multipolarmente e si riconoscono nella loro pluralità in realtà il globalismo è l'attuazione del nazionalismo è un'unica nazione che ha occupato il mondo intero e che chiama occidente o umanità i propri valori e la propria egemonia analogamente direi che bisogna proprio come ci si batte per l'internazionalismo che è il multipolarismo degli stati nazionali in relazione solidale tra quelli democratici e socialisti ci si debba opporre rispetto a Bruxelles rispetto all'ordine degli euro i nomani di Bruxelles i quali appunto hanno come obiettivo conclamato quello di superare gli stati sovrani nazionali come ultimi baluardi di democrazia e diritti sociali e quindi come ultimi fortilizi che resistono al progetto neoliberista il neoliberismo intendiamoci non mira a distruggere lo stato in quanto tale mira semmai a desovranizzarlo cioè a ricollocarlo come propagine al servizio dell'economia come stato al stato poliziotto per dirla con la tradizione liberista la nozic lo stato poliziotto che è al servizio del mercato e delle sue transazioni non per caso la formula impeccabile con cui Foucault chiamava il liberismo era il governo per i mercati laddove invece la democrazia e il socialismo sarebbero il governo dei mercati governare i mercati a favore della comunità democratica il liberismo governa per i mercati e per farlo deve neutralizzare deve spoliticizzare lo stato nazionale desovranizzandolo quindi de democratizzandolo e assegnando il potere per intero a enti post nazionali economici come la BCE lo stato diventa così poi semplicemente il comitato d'affari delle classi dominanti avrebbe detto Marx diventa come nel caso del governo Draghi davvero il comitato d'affari per conto del capitale di Bruxelles e della BCE comitato d'affari la formula magnificamente utilizzata da Marx al suo tempo che permette credo di capire appieno ciò che sta avvenendo il governo Draghi non è un governo che tutelerà l'interesse nazionale nel mondo in Europa è il governo che tutelerà l'interesse del capitale a Poline in Italia commissariandole garantendo che essa Italia sia del tutto legata all'interesse del capitale impossibilitata a sottrarsi alla sua presa Diego il 27 noi abbiamo lanciato una iniziativa un'assemblea che poi ci porterà a chiamare a raccolta in tempi rapidissimi tutte le persone che credono in un cambiamento sostanziale stanno scrivendo in tantissime perché vogliono insieme a noi andare oltre l'esistente oltre Vox Italia per costruire una casa più grande più forte capace di sfidare l'equilibrio esistente però noi vogliamo costruire questo meccanismo su una base ideologica precisa che è quella che tu hai delineato in tanti ci chiedono unità noi siamo sempre d'accordo sul principio della collaborazione della solidarietà però si può collaborare in termini concreti quando si parte da presupposti che sono simili uno di questi fondamentale è la lotta contro l'atlantismo tu l'hai spiegato molto bene che non basta essere genericamente contro l'euro per poter fare una campagna finalizzata ad un cambiamento di paradigma radicale anche Margaret Thatcher era contro l'euro però ha massacrato i minatori inglesi ha massacrato il ceto medio è ricordata con odio con sprezzo a tutta la classe lavoratrice il fatto che fosse nemica dell'euro non la santifica di per sé possiamo lanciare un appello chiaro a tutte le forze che come noi sono sovraniste populiste contro il dominio dei mercati affinché abbandonino diciamo le sirene criticamente atlantiste per costruire con noi una solidarietà basata su un modello totalmente e veramente di cambiamento a partire naturalmente da Italexit di Paragone cioè se Paragone abbandona l'atlantismo può diventare un compagno di strada con noi importantissimo per arrivare nel 2023 a cambiare l'agenda di questo paese ma guarda caro Francesco accolgo il tuo invito per il 27 è preciso subito che ovviamente io ho delineato la visione del mondo che è la mia e nella quale il nostro gruppo la nostra comunità si identifica almeno almeno mi pare di capire naturalmente essere per la sovranità implica quello che dicevo a mio giudizio ci ho detto noi possiamo e dobbiamo probabilmente dialogare con tutti coloro i quali per un avvio o per un'altra abbiano inteso che la sovranità è qualcosa da difendere e non da cedere poi naturalmente bisognerà dialogare massimamente con tutti anche per mostrare come non basti la sovranità militare e come non basti la sovranità economica ecco però già chi ha messo bene in evidenza il fatto che ci vogliono la sovranità economica monetaria e ci vogliono la sovranità militare geopolitica è comunque un nostro interlocutore fondamentale per questo io credo che per il 27 la cosa migliore da fare è proprio a segnalare la nostra volontà di dialogo il dialogo implica sempre un reciproco riconoscimento tra i dialoganti quindi si dialoga quando ci si riconosce nella propria statura dei dialoganti il dialogo implica il fatto che si riconosca nell'altro un potenziale portatore di verità da cui apprendere con cui confrontarsi quindi è l'esatto opposto di chi evidentemente si inginocchia di fronte all'altro o di chi pretende che l'altro si inginocchi dinanzi a sé o di chi si toglie il cappello pensando che l'altro possa garantirgli qualcosa ecco il dialogo implica una relazione tra persone che alla maniera greca si riconoscono dialogo è una parola bellissima dialogo è la ragione discorsiva che si muove nello spazio che separa gli interlocutori i quali sono separati se no non ci sarebbe dialogo ma monologo sono separati e trovano un punto di contatto mantenendo le proprie specificità ecco perché a me piacerebbe molto che il 27 venissero invitati ufficialmente tutti coloro i quali per un avvio o per un'altra sono giunti a teorizzare a praticare la necessità del ritorno della sovranità nazionale dal fronte sovranista italiano di Stefano D'Andrea a Italexit di Gianluigi Paragone dal partito comunista di Marco Rizzo a Liberiamo l'Italia di Moreno Pasquinelli tutte persone che tra l'altro conosco e che ritengo oltretutto ottime puntuali e anche con la postura gladiatoria necessaria per queste battaglie ovviamente il dialogo implica la volontà di confrontarsi e credo che questo sia il punto importante da parte mia e posso dire da parte della comunità che si ritrova nelle pur modeste idee che esprimo c'è la volontà massima di dialogare ecco naturalmente per farlo occorre trovarsi insieme avere la volontà di costruire un percorso ripeto un percorso che non deve essere scioglimento dell'uno nell'altro che non deve essere in posizione della propria linea agli altri io non mi permetterei mai ovviamente di imporre la mia visione ad altri cercherei cercherei semmai di persuaderli della veridicità di ciò che sto dicendo nel tentativo di portarli sulle mie posizioni se ciò non dovesse avvenire si continuerebbe a dialogare nella differenza delle proprie posizioni il momento è sicuramente fondamentale per questo occorre confrontarsi dialogare con tutte le forze che abbiano compreso l'importanza vitale della sovranità nazionale con declinazioni anche diverse intendiamoci perché il fronte sovranista d'Andrea che insiste giustamente sul tema della costituzione della sovranità e della democrazia ha delle sfumature diverse ovviamente dal partito comunista di Marco Rizzo che pure insiste sul concetto di sovranità nazionale e quindi di uscita dall'euro e dalla Nato in una chiave spiccatamente socialista e comunista con sfumature diverse ripeto che è giusto che ciascuno conservi e difenda riconoscendo però un'area di famiglia ecco con gli altri interlocutori lo stesso si può dire tra Italexi di Gianluigi Paragone Liberiamo l'Italia di Moreno Pasquinelli hanno delle sensibilità diverse su molti temi ma poi credo che ci si possa trovare per dialogare per portare avanti un progetto in comune anche perché poi l'essenza del liberismo avrebbe vinto se noi preferissimo al dialogo e alla comunità la competitività e l'individualismo saremmo già vittime di quel liberismo che invece posso dire senza tema di smentita tutti e quattro gli amici evocati d'Andrea Marco Rizzo Paragone Pasquinelli combattono ecco sono tutti saldamente antiliberisti e questo fa di loro dei nostri naturali interlocutori e quindi mi piacerebbe invitarli per il 27 e allora facciamolo ufficialmente in chiusura di questa intervista chiudiamo se ci sono state nel passato differenze di vedute sfumature differenti incomprensioni e cerchiamo di trovare una sintesi che è possibile solo nella misura in cui come bene prima diceva Diego ci si riconosce come interlocutori quindi lanciamo un appello pubblico e lo faremo poi anche privatamente agli amici che abbiamo prima citato d'Andrea Rizzo Pasquinelli e Paragone affinché vengano il 27 a portare il loro saluto la loro impressione la loro idea di politica con noi insieme a noi per cercare di trovare un minimo comune denominatore che ci permetta da qui a breve di rappresentare un'alternativa credibile e non soltanto sulla carta rispetto a questo sistema che oramai ha perso il senso del limite e della misura quindi Diego chiudiamo questa intervista invitando questi amici a venire con senso di solidarietà di amicizia di stima di serenità insieme a cercare una sintesi possibile nel nome di un interesse più alto sì proprio così e anzi esorto tutti a seguire con attenzione i nostri processi di sviluppo che caratterizzeranno il soggetto politico che si ispira alle mie visioni filosofico politiche e che è arrivato credo al punto in cui si diventa grandi come usa dire in cui si cresce e si devono affrontare nuove sfide tu hai usato l'immagine dell'abbandonare il porto e quindi del darsi in mare aperto mi pare una buona immagine e per questo occorre rinvigorire il gruppo occorre comprendere bene chi sia disponibile abbia desiderio di navigare nella spedizione contro il liberismo se vogliamo chiamarla così chi invece preferisca rimanere a terra perché ha legittimamente visioni diverse rispetto alle nostre vuoi perché ha altre sensibilità vuoi perché ha un progetto filosofico politico preferisce legittimamente l'immediatezza del lagone politico e della corsa elettorale ecco quello che mi sento di dire in conclusione come deduzione trascendentale diremo cantianamente del nostro gruppo di lavoro è che noi siamo una comunità che ha l'aspirazione a creare un pensiero filosofico politico che si traduce in azione ecco è in questo simile anche a una scuola filosofica dell'antichità che cerca di riannodare vita e pensiero prassi e teoria perché la nostra è un'epoca caro Francesco in cui tendono a separarsi queste due componenti abbiamo allora l'ipertrofia della teoria in assenza della prassi e per un altro verso abbiamo il fare ipertrofico della tecnica e della politica ridotta a calcolo a tecnica stessa non per caso si parla di tecnici e di governi tecnici è slegata da ogni progetto pensato ecco Vox nella sua evoluzione in vista del soggetto che si che si configurerà e ripetiamo per l'ennesima volta che il soggetto giuridico e politico resta al medesimo muterà nel nome e nel logo come appunto chiarito più volte ha come obiettivo primario proprio questo di tracciare lineamenti di un pensare e di un agire altrimenti bene insomma con questa sintesi mirabile possiamo chiudere è importante la politica è spesso cattiva è spesso diciamo spigolosa che si abbandona a distinti non sempre diciamo nobili però noi dobbiamo fare di tutto per rasserenare il clima per mandare un messaggio quasi di amore direi io non solo di amicizia di sentimento di condivisione di empatia perché soltanto cercando di cambiare anche il modo con cui la prassi della politica magari riusciremo a cambiare il metodo di governo per cui e chiudo per davvero io credo che su questo Diego sarà d'accordo cerchiamo di volerci più bene fra di noi fra tutti noi che siamo insomma di un'area affine cerchiamo ecco per dirla con San Paolo di gareggiare nello stimarci a vicenda ecco lancio questo appello ad una capacità perlomeno di riconoscerci come interlocutori amici che devono trovare in buona fede una sintesi nel nome di un interesse più alto ecco credo che questo sia anche il tuo pensiero anzi di questo sei un maestro diciamo assolutamente sono d'accordo caro Francesco bisogna vincere il liberismo anzitutto sul piano antropologico bisogna tornare a vedere nell'altro un socius e non un virus come avviene nella pandemia ora o come un lupus da neutralizzare il liberismo vince quando ciascuno di noi interiorizza introietta la mentalità liberista e quindi bisogna lavorare anche su se stessi come la intendiamo noi la filosofia politica e anche un lavoro su se stessi di una comunità che condivide visioni del mondo e pratiche di vita per questo l'ingresso di Mauro Scardovelli dal 27 di febbraio è per noi un motivo di vanto e di orgoglio perché Mauro Scardovelli è un pensatore libero del nostro tempo che ha fatto della cura di sé tema magnificamente filosofico tematizzato da Foucault e prima dalla filosofia ellenistica ha fatto della cura di sé e della comunità naturalmente il fulcro della propria ricerca e del proprio insegnamento bene l'ingresso di Scardovelli è davvero importantissimo per tutta la nostra comunità dà il senso di una prospettiva che cresce in maniera esponenziale arrivano migliaia di mail più che c'è migliaia sono arrivate nell'ultima settimana più di mille email di gente che guarda con grande attenzione a questo processo che noi abbiamo messo in piedi noi ve lo assicuro faremo di tutto per non deludere mai le vostre autentiche generose e sane aspirazioni grazie ancora Diego grazie a te un caro saluto da Diego Fusaro bene cari amici di Vox Italia TV si conclude qui questa importante intervista che non soltanto analizza l'attualità politica ma delinea anche uno scenario di possibile cambiamento che noi vogliamo e possiamo mettere in piedi grazie anche e soprattutto al vostro aiuto perché il nostro intento non è soltanto quello di raccontarvi il mondo o di interpretarlo ma è quello di cambiarlo per usare le parole di un filosofo caro sicuramente a Diego Fusaro grazie a tutti voi vi ricordo che il nostro progetto la tv non ha finanziatori di alcun tipo vive soltanto grazie alle vostre donazioni come sapete abbiamo subito una batosta nei giorni scorsi perché youtube dopo averci demonetizzato ci ha persino chiesto di restituire i soldi degli abbonamenti che loro ci avevano prima accordato e poi di imperio ci hanno come dire eliminato per cui ci hanno dato una mazzata fortissima che rischia di mandarci diciamo non dica a gamballare perché resistiamo comunque siamo stoici restiamo a lavorare anche in condizioni di estrema difficoltà però già era stato difficile assorbire il primo colpo cioè quando ci hanno tolto la possibilità di monetizzare i nostri lavori adesso che ci hanno pure chiesto di dargli indietro i soldi insomma la situazione si è fatta davvero difficile per cui chi può poco o tanto insomma tramite bonifico tramite paypal può aiutarci se ci volete dare diciamo la possibilità di ripartire con gli abbonati costruire quindi diciamo un circuito fisso di persone che sostengono questo progetto potete farlo andando sul nostro sito www.voxitaliatv.com vi assicuro che noi continueremo a lavorare fino all'ultimo secondo fino a quando sarà possibile grazie alla prossima www.voxitalia- BOX www.voxitalia.com Grazie a tutti.